Rinnovando l'appuntamento per questa sera ci sentiamo, ci sentiamo letteralmente nel gruppo Telegram, chat aperta a tutti, e quindi la prima puntata di Supertele Show dedicato a Porto Milan. Volevo parlare brevemente con voi della questione rinnovi, perché qualche tempo fa, in uno dei video dove si trattava l'argomento che sì, mi sono spinto a fare una considerazione che era una considerazione prettamente emotiva in un certo senso, cioè la netta sensazione che con i rinnovi dei giocatori dell'attuale gestione le cose sarebbero andate diversamente. Avevo questa convinzione che nasceva forse più da come sono state gestite le trattative e i rinnovi di quelli che c'erano, piuttosto che per una consapevolezza verso i rinnovi di quelli che sono arrivati con l'attuale gestione, soprattutto attraverso Paolo Maldini. Le notizie che abbiamo letto da ieri sera, cioè quelle che parlano di un rinnovo vicino, di discorsi molto avanzati per giocatori come Teo, quale si parla di un'estensione negli altri due anni, con un bel aumento di stipendio, poi si parla di Leao questa mattina, si parla anche di Benasser, sono indicazioni che vanno nella direzione di confermare quella che era stata una mia sensazione, una sensazione che nasceva e si consolida nel pensiero che i giocatori scelti da questa gestione, sono stati scelti in un certo senso, non voglio scadere ovviamente nella filosofia da quattro soldi, ci mancherebbe, però sono stati scelti con un certo criterio e una certa considerazione di alcuni valori e che questi giocatori hanno deciso di sposare il progetto, di sposare anche questi valori, che sono valori, come ci siamo detti anche di recente, sono valori fondativi della Cimilano. La sensazione è questa, che si sia trovato il modo attraverso la figura di Paolo Maldini, che sappiamo tutti, chi meglio di lui può insegnare che cosa vuol dire stare al Milan, attraverso la figura di Paolo Maldini si sono identificati nel progetto Milan e hanno deciso di sposarlo. Naturalmente poi non è detto che questo accada, ma la sensazione è che rispetto ai giocatori della precedente gestione, scelti da altri, forse in un certo senso un pochino cambiati da quello che è stato il percorso del Milan degli ultimi anni, quindi un percorso difficile, un percorso di anche tribolazioni dal punto di vista della proprietà, forse tutto questo non coincide perfettamente con lo spirito del nuovo Milan, con lo spirito che Maldini, che Gazzidis, che Massara, che tutta la nostra dirigenza, ma soprattutto Paolo Maldini vogliono che ci sia e che al momento gli sta dando ragione. Chiaro, non abbiamo vinto nulla, tutti questi discorsi qua, però i presupposti, li vediamo tutti, sono dei presupposti di una squadra che può fare bene, benissimo, che può crescere e poi attraverso la crescita, attraverso i risultati, il consolidamento della posizione in Champions League, può inserire elementi sempre più forti, sempre più qualitativamente, più alti nel nostro gruppo. Poi abbiamo visto anche che tutto sommato dal punto di vista di saper scegliere i giocatori, fino adesso, a parte qualche caso, ma è chiaro che non esiste un direttore sportivo o comunque qualcuno che fa una squadra che non sbaglia mai. Ma di là di questo, devo dire che i risultati sono notevoli, perché tanti giocatori sono stati non solo scelti, ma sono stati difesi, sono stati confermati e sono arrivati, come ci ha detto il mister, in una condizione mentale diversa la scorsa estate alla preparazione. Questa è una cosa importante, ieri nel corso della live parlavamo di come certi giocatori sembrano più grossi, più grossi di personalità, più grossi di spirito, più grossi forse anche di impegno, di serietà, di maturazione, no? Ecco, e questo è quello che è successo a scorsa estate per bocca del nostro allenatore. Quindi non è che sono invenzioni, sono cose che ci ha detto lui, che ci ha confermato lui. Ecco, io credo che anche nella questione rinnovi questi valori, questa personalità, questa voglia di abbracciare il progetto, di essere esagero, di essere in un certo senso fedeli alla parola data Paolo Maldini, mi rendo conto che è un'enormità, perché viviamo in un mondo che è logicamente un mondo di business, un mondo di interessi, però mi piace pensare che questo mina sia, come dire, un piccolo esempio di come si possa costruire qualcosa, di come si possa fare, ai miei tempi sarebbe detto, un laboratorio di esperienza per un calcio diverso, che sicuramente non è quello attuale, che non ci piace, ma è quello del futuro, che magari ci piacerà un po' di più. Chi lo sa? Aspetto i vostri commenti e ci sentiamo questa sera, dopo la partita, su Telegram.